Il complesso di San Domenico proverà a tornare alla sua originaria vocazione. Questo è stato uno dei primi studium napoletani, era lo studium domenicano, frequentato da intellettuali prestigiosi europei come Tommaso d'Aquino, come Giordano Bruno, come Tommaso Campanella. San Domenico Maggiore diventa la casa della lettura di Napoli, uno spazio pubblico attrezzato per leggere, ascoltare, condividere libri e idee, partecipare ad iniziative culturali. Le sale e i corridoi del Chiostro saranno arredati in modo da creare ambienti per la lettura e per lo studio. Un'area sarà dedicata ai bambini e alle narrazioni per l'infanzia. Ci auguriamo che i lavori siano conclusi entro la fine di quest'anno. Sono lavori che riguarderanno naturalmente soltanto gli arredi, le modifiche degli arredi. Abbiamo un modello alto che è il modello della Biblioteca Pubblica di Helsinki, una grande biblioteca nata appunto come casa della pubblica lettura. Anche le biblioteche delle municipalità cittadine saranno rinnovate e dotate di nuovi arredi, con l'idea di costituire assieme a San Domenico un sistema diffuso di centri di lettura e di aggregazione. San Domenico diventerà una sorta di centro dal quale si irradiano una serie di percorsi verso le tante biblioteche municipali presenti sul territorio cittadino.